Oramai la storia va avanti da diversi anni, dopo la riunione di marzo di quest'anno si pensava che attraverso una comunicazione interlocutoria il tutto sarebbe risolto, stiamo parlando della sede principale a Teramo, della Camera di Commercio, dopo la fusione volontaria tra Teramo e L'Aguila, il presidente Lanciotti, che secondo me è illegittimo per norma perché non può stare lì, ha superato il terzo mandato, e ci aveva rassicurato dicendo che L'Aguila era d'accordo sul fatto di fare questa nota interlocutoria per stoppare l'avanzamento della fusione. Ma secondo me questo non è vero, non era vero allora perché era scontato che L'Aguila sicuramente non sarebbe tornato indietro su quella posizione e oggi i fatti ce lo stanno confermando perché dai media si evince chiaramente che L'Aguila non è d'accordo sul fatto di tornare indietro. E adesso che bisogna fare? Abbiamo perso degli anni, abbiamo perso qualche anno in attesa di quale evento non lo so, forse in attesa di qualche poltrona molto probabilmente, se l'azione fosse stata portata da qualche anno forse oggi avremmo un quadro diverso, forse lo spiraglio è quello di dichiarare illegittimi gli atti proposti al presidente, visto che non è legittimato a ricoprire quel ruolo.